Ue ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui con un video veramente speciale che durerà poco ma non potevo farlo mancare sul canale perché davvero una cosa da mettersi le mani nei capelli ragazzi vi spiego come sono venuto a conoscenza di questa cosa ero in macchina ed hanno passato in radio la notizia di questa cantante lirica che al ferrari day tenutosi a daytona negli stati uniti ha completamente sputtanato il nostro inno ragazzi ed è una cosa quanto brutta sinceramente a quanto pare volevano creare un po quest'ambiente italiano al ferrari day in quanto una marca italiana effettivamente di automobili il problema è che a rovinare il tutto è stata appunto questa cantante lirica che ha fatto davvero ragazzi il macello credetemi ho visto che se ne sta parlando poco su youtube effettivamente più sui social ma comunque sia voglio proporla anche qui su questa piattaforma e vedere voi cosa ne pensate al riguardo perché davvero ragazzi è stata fondamentalmente una grande figura di merda da parte di questa cantante comunque passiamo con il video ragazzi perché è una cosa davvero stupenda sentiamo ok vai dai fine qua ok oh perfetto brava si di che no vabbè cos'è che ha detto li metto da capo ti prego lo voglio risentire l'italia de setta ma quale inno hanno insegnato a questa qua forse quello già un po' cinese ragazzi poi il è una cosa stupenda ragazzi mi fa troppo ridere te lo giuro perché che cosa è mentre canti si mette a fa continuiamo ragazzi continuiamo che davvero c'è da scompisciarsi l'italia che l'italia de fito l'italia de fito ok dov'è la vittoria l'italia sedesta si corte si la sta mischiando tutta qua questa cosa siamo pronti alla morte creò che cosa creò pronti alla morte oh creiamo oh dio mio ragazzi no vabbè ragazzi ditemi voi se questa non è una grande figura di merda secondo il mio modesto parere avrei preferito comunque lasciar perdere questa cosa avrei preferito piuttosto chiamare una cantante italiana e farle cantare lino d'italia come mameli l'ha creato ma purtroppo questa volta non è andata così io credo che la gente soprattutto italiani che erano lì in quel momento si sono guardati in faccia per dire che cazzo sta succedendo che cacchio sta dicendo questa mi riferisco a quelli che organizzano sto ferrari day mi raccomando la prossima volta chiamate un'italiana che meglio che meglio cioè io non so poverina lei cosa ha passato dopo questa performance credo che forse l'avranno cacciata a calcio in culo oppure boh non lo so mi dispiace pure da una parte però dio santo dio santo vabbè sono cose che capitano ok però ad un evento così proprio l'italia ha messo da parte e niente ragazzi spero che questa sorta di parodia tra virgolette vi sia piaciuta ditemi voi cosa ne pensate nei commenti come effettivamente vi sareste sentiti al suo posto perché comunque ragazzi è comunque una cosa brutta c'è dimenticarsi le parole davanti ad un pubblico abbastanza ampio credo comunque il ferrari day è una cosa importante credo e se è normale che con tanti cavolo di inni che esistono sulla faccia della terra vanno a rovinare quello italiano e ti pare ci dobbiamo andare sempre di mezzo noi sempre normali italiani itali italiani vabbè lasciamo stare il discorso troppo ampio questo comunque niente ragazzi se volete iscrivervi iscrivetevi se non vi volete iscrivervi non fa niente mi raccomando seguitemi su facebook instagram e entrate nel gruppo telegram detto questo noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ciao